Un vortice depressionario risulta ancora presente sulla Sicilia ed è previsto in lento e graduale spostamento verso Levante. L'alta pressione rimane ancora confinata sulla penisola iberica, sull'Italia insistono correnti fresche prevalentemente stabili dai quadranti nord-orientali. In Toscana, venerdì 27 febbraio, poco o parzialmente nuvoloso per residui addensamenti in mattinata sulle zone orientali e possibile transito di velature nel pomeriggio. Venti deboli o moderati nord-orientali, mari poco mossi o mossi localmente mossi a largo, temperature minime in diminuzione con locali gelate sulle zone interne, massime in lieve aumento nell'interno. Anche sul territorio provinciale da nuvoloso a poco nuvoloso o sereno, a Lucche sulla Piana temperatura minima 0, massima 15 gradi, in Versilie sul litorale minima 4, massima 16, in Garfagnane zone montane minima meno 2, massima 16 gradi, sabato cielo sereno poco nuvoloso e temperature stazionarie.